Non è ancora un vero e proprio casting, ma in casa Teramo si vagliano profili che dovrebbero raccogliere l'eredità di Agenore e Maurizzi sulla panchina biancorossa. Mentre il tecnico, che ha ancora due anni di contratto, ammette dalle colonne di tutto mercato web che attende di conoscere novità legate al proprio futuro, lunedì pomeriggio c'è stata una riunione fiume con il neopresidente Franco Iachini, i direttori Emilio Capaldi e Sandro Federico e Andrea Iaconi per stirare le linee che guideranno la scelta del nuovo timoniere. Chiaro l'intento della società, prima va trovato l'allenatore che può fare al caso del diavolo e subito dopo arriverà la comunicazione a Maurizzi dell'interruzione del rapporto. I due anni rimanenti andranno liquidati, in questo senso o si trova un accordo oppure finché Maurizzi non troverà panchina gli andrà corrisposto allo stipendio. Ma è evidente che le strade sono destinate comunque a separarsi, l'indicazione principale è rompere seppur parzialmente col recente passato legato a Luciano Campitelli. Poi si passerà ad allestire l'organico proprio su indicazione del nuovo tecnico. E se Andrea Camplone resta un sogno pressoché irrealizzabile, Giuseppe Scienza sembra ricalcare meglio la figura che può fare al caso dei Biancorossi. Tecnico giovane, 53 anni ma con esperienza in categoria, che può aiutare in un campionato complicato. Con Iaconi, che già lavora per il Teramo, si sta creando il gruppo che dovrà impostare una stagione che con l'entusiasmo del cambiamento dovrebbe essere di alto profilo. Le intenzioni di Iaconi sono quelle di provare, a stretto giro, a fare quel salto di categoria che dal punto di vista economico-finanziario potrebbe mettere davvero al sicuro i conti del diavolo, che oggi risentono di un passivo importante, come svelato nei giorni scorsi. Scienza, peraltro, è profilo che Iaconi conosce bene perché all'inizio della carriera da allenatore si è seduto sulla panchina del Brescia, seppur per poco tempo, prima di iniziare l'esperienza sui campi di Lega Pro, sulle panchine di Cremonese, in sostituzione di Oscar Brevi, poi Ferralpisalò, Alessandria e Chiasso, seconda serie svizzera, prima di raccogliere l'eredità di Massimiliano Tangorra a Monopoli. Coi pugliesi una stagione e mezza, con un sesto e un ottavo posto, eliminato dalla Virtus Francavilla la scorsa stagione e dalla regina un mese fa. Il 29 maggio l'addio ufficiale ai gabbiani e la possibilità di ricominciare una nuova avventura. Il Teramo ci sta facendo più di un pensierino. Prima, però, il sodalizio bianco-rosso vuole essere certo di mettere sotto contratto l'allenatore migliore per un progetto rinnovato e che dovrebbe avere grandi ambizioni già a partire dal mercato di giugno e poi dal ritiro di luglio a Rivisondoli.